Guys, ben ritrovati in questo nuovo video, video del giorno dopo, il giorno dopo di Atalanta Roma 4 a 1 prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su tutti i social che trovate in descrizione ieri purtroppo non ho fatto un video di grossa qualità perché l'ho fatto in macchina non sono riuscito a realizzarlo qui nella mia solita postazione vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella non so se oggi pomeriggio riuscirò a fare una live per le ore 18 parleremo di calcio mercato molto probabilmente ma volevo analizzare un attimino quella che è stata la partita di ieri perché io avevo precisato nei giorni scorsi che non avrei voluto vedere una Roma stile Napoli perché a Napoli praticamente ci siamo consegnati perché non abbiamo fatto una partita da Roma non abbiamo fatto proprio la partita cioè non abbiamo proprio fatto niente a Napoli mentre ieri vedendo il primo tempo mi ero un attimino tirato su di morale perché avevo visto una squadra molto determinata una squadra guerriera come aveva detto Fonseca infatti se proprio vogliamo andare ad analizzare ragazzi le dichiarazioni di Fonseca non voglio cercare Alibi abbiamo fatto un primo tempo con grande intensità da guerrieri poi un secondo tempo da ragazzini bambini è una frase tosta ragazzi è una frase che non mi aspettavo perché evidentemente anche Fonseca a fine primo tempo sperava di vedere una Roma diversa nel secondo magari se fosse entrato quel gol di Spinazzola staremmo parlando di un'altra partita però storicamente anche quando abbiamo avuto due gol di vantaggio con l'Atalanta ci siamo fatti rimontare vi ricorderete senza troppi giri di parole due anni fa eravamo in vantaggio 3-0 a fine del primo tempo contro l'Atalanta ci siamo fatti rimontare 3-3 e a momenti la perdevamo 4-3 sarebbe stato uno smacco clamoroso e quindi con un secondo tempo come quello di ieri forse anche in vantaggio di due gol ti saresti fatto rimontare magari perdendo lo stesso 4-2 o 3-2 o chissà magari pareggiando il discorso è che ho visto un atteggiamento comunque diverso nel primo tempo rispetto alla partita contro il Napoli ho visto comunque una Roma aggressiva una Roma che ha fatto un primo tempo eccezionale secondo me perché è stata comunque una partita molto fisica molto tattica, molto tirata non ci sono viste grandi cose nel primo tempo ma la Roma aveva chiuso gli spazi benissimo all'Atalanta cercando di ripartire in contropiede ed è questo che ci è mancato siamo la squadra che in tutto il campionato ha segnato di più in contropiede può essere un bene o un male però questo è un dato di fatto e vedere tanti contropiedi sfumati nella partita di ieri mi viene in mente un sacco di volte Mkhitaryan e Dzeko con Pellegrini che si inseriva con Pedro abbiamo sbagliato tanto perché giustamente l'Atalanta si sbilanciava per cercare il pareggio e noi in contropiede li abbiamo graziati nel primo tempo potevamo tranquillamente finirlo sul 2-0 al di là del palo di Spinazzola che lì porca miseria è stato anche molto sfortunato però ricordo una gran parata di gollini su Veretù nel secondo tempo secondo me il gol di Zapata ci ha tagliato completamente le gambe perché già dal finire del primo tempo avevo visto che la squadra era molto stanca molto stanca però l'Atalanta non aveva fatto niente per impensierirci perché comunque avevamo chiuso molto bene le zone del campo diciamo che c'è stato un episodio quello del gol di Zapata perché sul rimpallo la palla è tornata a Dilicic che ha fatto quel filtrante quella verticalizzazione passata da sotto le gambe di Bagnez lì Smalling preso un po' in controtempo non è riuscito a mettere nemmeno la gamba sul tiro di Zapata non scordiamoci che comunque Smalling viene da un infortunio che l'ha tenuto fuori parecchio e viene comunque da tre partite consecutive giocate quindi al di là del gol subito da Zapata Smalling è stato perfetto è stato perfetto sul colombiano ieri anche Karsdorp prima del gol di Gosens era stato perfetto era stato perfetto sul tedesco non l'aveva fatto mai girare mai crossare era stato perfetto giustamente quando stacchi la spina per un momento l'Atalanta non ti perdona per questo io dico mi dispiace stamattina mi sono alzato molto amareggiato più amareggiato della partita col Napoli se volete perché col Napoli non eri proprio scesso in campo non eri proprio scesso in campo e la sconfitta era meritatissima si bene il Napoli era stato cinico al 100% come lo è stata l'Atalanta ieri ragazzi l'Atalanta ieri è stata cinica al 100% il primo gol è stato un'invenzione un gran gol di Zapata che non segnava da tanto poi mettici anche che Ilicic dopo la depressione ha deciso di rientrare a pieno regime contro la Roma ma non è una scusante assolutamente lì secondo me ieri la partita l'abbiamo persa noi ragazzi perché se avessimo continuato nel secondo tempo come nel primo forse staremmo parlando di un'altra partita però se, se, se se con i se non si va avanti ragazzi con il silenzio avanti io voglio sempre tornare sul discorso delle big ragazzi intanto qui è morta la luce nel discorso delle big perché io voglio andare ad analizzare un attimo con voi la classifica perché comunque va dal di là di tutto siamo rimasti quarti in classifica dopo la partita di ieri e vado ad analizzare gli scontri contro contro le prime nove io vedo che col Milan abbiamo pareggiato con l'Inter dobbiamo giocare con la Juve abbiamo pareggiato con il Napoli abbiamo perso col Sassuolo pareggiato con l'Atalanta ha perso con la Lazio dobbiamo ancora giocare e col Verona abbiamo perso ma in realtà abbiamo pareggiato è scandaloso come negli scontri diretti con le prime nove tu abbia fatto soltanto un punto con la Juve con Milan e con il Sassuolo mettiamoci anche quattro col Verona però la classifica dice che abbiamo fatto tre punti con le prime nove è scandaloso ragazzi non esiste c'è anche da dire c'è anche da dire che comunque non si vincono tra virgolette i campionati battendo le big ma anche piazzandoti in Champions io potrei anche firmare per perdere i big match ma vincere tutte le partite con le medio piccole firmerei all'istante forse anche voi forse anche voi certo è che a livello proprio di di soddisfazione di non so che cosa vincere qualche big match ti dà anche un po' di consapevolezza in più io vedo tipo la Lazio la Lazio fatica con le piccole però inzaghi le prepara benissimo contro le grandi voi direte vabbè che senso ha vincere col Napoli e pareggiare col Benevento ma sono d'accordissimo sono d'accordissimo infatti la forza nostra quest'anno è che stiamo vincendo tutte le partite con le piccole cosa che altri magari non stanno facendo io vedo la Juventus che pareggia col Crotone pareggia con non mi ricordo chi e noi sono partite che abbiamo vinto però è proprio una questione secondo me di mentalità perché magari la Roma affronta le partite con le piccole consapevole del fatto che siamo più forti di altre determinate squadre poi affrontiamo le big e vai a vedere che magari passi anche in vantaggio come ieri e non riesce a gestirlo non riesce a gestirlo magari al primo gol subito te ne vai di testa perché ieri il gol di Zapata ci ha spezzato completamente le gambe ma eravamo anche sulle gambe già da fine primo tempo inizio secondo e lì Fonseca mi deve fare qualche cambio mi deve fare qualche cambio perché Pedro a parte qualche spunto qualche azione pericolosa non è che abbia fatto granché io già l'avrei sostituito per avanzare Pellegrini già dal cinquantesimo l'avevamo visto tutti avanzare Pellegrini a inserire Villar posso anche capire che magari essendo una partita molto fisica essendo una partita molto fisica oh cazzo essendo una partita molto fisica ha deciso di non mettere Villar essendo un po' più tecnico ma vuoi metterci Cristante ma mettilo prima hai a disposizione cinque cambi lo abbiamo visto tutti che la squadra era stanca fai qualche cambio fai qualche cosa poi ci siamo ritrovati con Spinazzola rotto lì mi ha messo Bruno Perez non Calafiori io Bruno Perez ragazzi non lo voglio vedere in campo non lo voglio vedere in campo spero che si prendano provvedimenti su quella fascia lì abbiamo Calafiori come vice Spinazzola ma mettici Calafiori tra l'altro il secondo gol di Gosens è arrivato sulla fascia dove c'era Bruno Perez dove è agito Bruno Perez dopo Spinazzola quindi si è visto che come è uscito Spinazzola e come la partita dell'andata dell'anno scorso ragazzi se voi ricorderete uscito Spinazzola abbiamo sofferto abbiamo preso gol abbiamo sbagliato di tutto passaggio in orizzontale di Veretout sbagliato come l'anno scorso Muriel sul 3 a 1 lì la Roma ieri era completamente sulle gambe mettici mettici il fatto che noi abbiamo giocato giovedì io non capisco perché siamo stati gli unici a giocare di giovedì e tre giorni dopo già eravamo a Bergamo a giocare contro l'Atalanta una partita semplice sulla carta quindi non so perché tutti abbiamo giocato martedì e mercoledì e noi devono giocare di giovedì adesso abbiamo la partita mercoledì contro il Cagliari cerchiamo di di chiudere almeno l'anno di chiudere almeno l'anno con una vittoria ragazzi perché cioè io vi ripeto guardo la classifica e vedo che delle prime nove non abbiamo vinto nessuno scontro diretto nessuno abbiamo ancora da giocare Inter e Lazio ma vedo che non abbiamo vinto nessuno scontro diretto quindi questa è la situazione ragazzi questa è la situazione toglieteci il punto tolto a Verona e vabbè ma sono quattro punti in sei partite è una roba allucinante ragazzi non è possibile una roba del genere questo è quanto oggi pomeriggio o faccio una live o faccio un video in cui parliamo un attimo di calciomercato perché a gennaio bisogna agire ragazzi a gennaio bisogna comprare qualcuno che sia centrocampo esterno quello che volete ma bisogna agire perché lì abbiamo dei problemi anche sia qualitativamente che quantitativamente abbiamo dei problemi in questa rossa le altre squadre hanno delle rosse forse un po' più ampie delle nostre e se vogliamo realmente arrivare tra le prime quattro dobbiamo agire anche sul mercato questo è quanto ragazzi tutto sommato l'unica cosa positiva di ieri è che a fine tredicesima giornata siamo ancora a quarti in classifica potenzialmente quinti perché l'Atalanta è una partita in meno ciao ragazzi sempre Forza Roma vi aggiorno su Instagram se faccio live o un video ciao guaglio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti